Musica Benvenuti alla consueto appuntamento con l'informazione. Oggi apriamo parlando di un caso di assenteismo registrato ad Acireale con un altro furbetto del cartellino che è stato sospeso dopo essere stato sorpreso non nel posto di lavoro in un preciso orario. Sentiamo tutti i particolari da Salvo Coturi. Un'ora di assenza dal posto di lavoro e parte il provvedimento di sospensione del servizio e dallo stipendio. E' accaduta ancora da Acireale a quasi un anno di distanza dall'inchiesta della magistratura sui cosiddetti furbetti del cartellino. 162 dipendenti pubblici indagati per truffa e falso per essersi allontanati dal posto di lavoro anche grazie a colleghi complici che strisciavano il cartellino elettronico per conto degli assenteisti. Questa volta è toccato ad un addetto dell'ufficio notifiche, pizzicato dagli agenti della Polizia Municipale che hanno ricevuto una segnalazione interna, sorprendere il presunto lavoratore in fedele a rientro in ufficio 60 minuti dopo essersi allontanato furtivamente. Il dipendente si è difeso spiegando agli investigatori di essere uscito per consumare un caffè. Gli agenti della Municipale hanno visionato il resoconto elettronico quotidiano ricostruendo il percorso lavorativo del notificatore finito nei guai. Alle 7.30 in punto del 29 dicembre scorso l'ingresso in ufficio. Alle 9.05 su disposizione del proprio dirigente lasciava l'edificio del centro comunale di Via degli Olivi per rieffettuare una notifica per farvi poi rientro alle 10.53. Alle 14.39 l'ultima strisciata del badge a conclusione della giornata lavorativa. Ma c'erano gli agenti della Municipale ad attenderlo in ufficio per un'ora piena in cui l'uomo risultava assente e ingiustificato. Dalle 13.35 alle 14.35. Un buco che potrebbe costargli adesso il posto di lavoro e che dovrà giustificare la Commissione disciplinare che si riunirà il prossimo 17 gennaio per ascoltarlo a sua difesa. La sospensione cautelare del servizio è dallo stipendio un passaggio obbligato che riporta ad attualità la questione assenteismo nel servizio pubblico comunale di cui il prossimo 10 gennaio si terrà un'udienza al Tribunale di Catania in cui uno degli imputati renderà spontanee dichiarazioni. Sono 15 i lavoratori finiti nel troncone principale della Procura di Catania di cui 3 ai domiciliari e 12 con obbligo di firma per 3 lavoratori. Giudizio è sospeso in attesa della decisione degli inquirenti mentre per i restanti 47 dipendenti si attende a giorni la decisione dei PM titolari dell'inchiesta Pasquale Pacifico e Marco Bisogni. Adesso andiamo a Catania dove stamattina si è diffuso un allarme bomba per fortuna rinnovatosi poi falso perché era riferito ad uno zainetto lasciato in stato di abbandono ma non c'era nessun ordigno. Sentiamo Sara Rinaudo. Paura e tanto caos stamane alle poste di Via Lavaggi e a Catania in zona viale Mario Rapisardi per un falso allarme bomba. Ad estare sospetto la presenza di questo zainetto poggiato sul marciapiede dai ignoti alla fermata del bus proprio di fronte all'ufficio postale. Forse una dimenticanza di qualche passante o la fretta di salire sul mezzo pubblico sta di fatto che nessuno è venuto a riprendere la borsa. Tanto è bastato in un momento di generale apprezzione a causare scompiglio e terrore. Sarebbe stato lo stesso direttore delle poste ad allertare le forze dell'ordine sul posto poco dopo i carabinieri il nucleo artificieri dell'arma, vigili del fuoco e un'ambulanza pronta per l'emergenza. Il tratto di strada è stato transennato isolato lo sportello Postamat utenti spaventati in fuga dalla zona mentre i militari del nucleo speciale hanno provveduto alle operazioni di individuazione dell'eventuale ordigno da far brillare. Solo dopo un paio d'ore l'allarme è rientrato nessuna minaccia dentro quello zaino ma resta la cronaca di una mattinata di paure e disagi nel giorno delle pensioni slittate per di più questo mese al 3 gennaio. Cioè logicamente mi sono spaventata sono stata due ore là dentro e basta, certo. Sì, il direttore mi ha detto no, non si preoccupa che è tutto a posto. Siccome stiamo vivendo nel caos stiamo vivendo nella paura è giusto che loro facciano questa di telefonata per noi, anche per tutelarci. Alla fine era un falso allarme però ha creato dei disagi. Sì, siamo qua di fatto Noi, è bloccato tutta la strada Noi ho avuto paura Un pochettino, sì Adesso si è in fila più del solito Sì E adesso parliamo di fondi per l'edilizia scolastica un contesto nel quale rientra anche la nostra regione sentiamo i particolari Buona notizia per le strutture scolastiche siciliane La nostra regione infatti rientra tra le quattro destinatari dei fondi recuperati dal programma ministeriale di edilizia scolastica 2015-2016 Complessivamente si tratta di 5 milioni di euro frutto delle economie di spese realizzate attraverso ribassi di cara o dei finanziamenti di opere già realizzate con fondi di diversa provenienza comunali, provinciali, regionali o della protezione civile I fondi saranno divisi tra Campania, Lazio, Molise e appunto Sicilia mentre la quinta regione, la Toscana ha deciso di non realizzare nuovi interventi ma di incrementare la disponibilità già a disposizione dei comuni beneficiari I fondi saranno utilizzati per effettuare indagini diagnostiche sui solari delle strutture scolastiche ma anche per interventi di miglioramento e adeguamento delle strutture alle norme antisismiche Le risorse saranno gestite direttamente dal MIUR Già nel 2015 erano stati stanziati 40 milioni di euro per l'operazione di verifica su elementi strutturali e non strutturali dei solai e dei controsoffitti delle strutture scolastiche Quei fondi sono stati spesi lo scorso anno nel 2016 Si tratta dunque di un'importante boccata d'ossigeno per le economie di quegli enti preposti alla sicurezza degli edifici che ospitano le scuole Continua la lotta contro lo spaccio di droga Due arresti nella quartiere di San Berillo a Catania Il quartiere a luci rosse della capoluogo Etneo Dei due speciatori che ieri sera sono finiti a poche ore di distanza L'uno nell'altro nella rete dei poliziotti e delle volanti Il primo è stato un cittadino originario del Gambia Iatta Abudoli di 29 anni pregiudicato che è stato sorpreso con 10 dosi di hashish E' stato poi rinchiuso nella camera di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima Mentre ancora un altro straniero proveniente dalla Mali Sky Aliu di 29 anni anch'esso è stato arrestato perché cedeva della droga ad un acquirente ed è stato sorpreso dai poliziotti Anche per lui si sono spalancate nelle porte della carce di Piazza Lanza con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti E torniamo adesso sulla vicenda relativa all'aggressione di un medico avvenuta nei giorni scorsi all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania Proseguono le indagini per far luce su questo episodio Sentiamo Rinaudo Tra i quali un operatore del 118 non in servizio continuano le indagini della polizia di Stato sull'ultimo caso di violenza all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania E' accaduto proprio il giorno di Capodanno Un medico del pronto soccorso picchiato e aggredito da un uomo giunto in compagnia di altre persone L'arrestato catenese già noto alle forze dell'ordine Mauro Cappadonna è stato rintracciato poco dopo l'episodio nei pressi del nosocomio Avrebbe preteso i dati e l'identità di una donna ricoverata dati che il medico non poteva fornire a tutela della privacy della paziente Pare che l'operatore del 118 avrebbe abusato della propria posizione privilegiata per permettere all'uomo di avanzare la richiesta al medico di turno Si indaga Ma intanto sono sette le aggressioni al Vittorio Emanuele in quattro mesi e l'anno nuovo comincia con l'ennesimo caso che riapre la questione sicurezza per il personale sanitario ad intervenire la funzione pubblica CGL Il tessimo episodio ci fa molto preoccupare quindi noi chiediamo alle forze politiche soprattutto al sindaco di Catania e al direttore generale di potenziare un po' questo servizio Tenuto conto che i medici e il personale infermeristico operano in un regime di pochissimo organico i turni sono massacranti molto spesso chi si presenta al punto soccorso chiede la priorità per avere assistenza quando, ripeto, è il medico di famiglia che dovrebbe sovraintendere quindi su questo noi chiediamo che venga istituito un tavolo di sicurezza proprio per garantire ed evitare che questi episodi si ripetino nel tempo E adesso parliamo del meteo dopo il sole di questi ultimi giorni temperature in calo in vista della festività dell'Epifania Sentiamo La tregua concessa dal maltempo per il Capodanno sta per finire in arrivo una nuova ondata di gelo che da domani colpirà anche la Sicilia previste nevicate anche a bassa quota a Catania, Messina e Palermo case e strade così come è successo l'antivigilia di Capodanno potrebbero dunque imbiancarsi nuovamente per l'Epifania previsti anche un brusco calo delle temperature e forti raffiche di vento Tutta colpa spiegano i meteorologi di un'imponente irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia che porterà la prima perturbazione dell'anno in Italia Le prime avvisaglie sull'isola ci saranno già dalle prossime ore con l'arrivo di una perturbazione che porterà un brusco calo termico ma la situazione peggiorerà giovedì con un crollo della colonina di mercurio di almeno 10 gradi Durante il ponte festivo, affermano ancora gli esperti il freddo percepito sarà molto intenso a causa dei forti venti che potrebbero raggiungere anche 70-80 km orari Per il giorno della Befana, Catania e Palermo sono previsti 6-7 gradi ma se ne avvertiranno molti meno La neve dunque potrebbe fare nuovamente la sua comparsa anche in pianura era già successo in queste feste alla fine dello scorso anno molti comuni pedemontani furono ricoperti da una fitta coltre bianche e rimasero isolati per ore a causa delle strade ghiacciate E adesso la segnalazione di un nostro telespettatore in riferimento a questo palo pericolante lo vedremo tra poco nelle immagini che veicola cavi telefonici spezzato alla base probabilmente per le conseguenze del forte vento dei giorni scorsi in Sicilia orientale Il palo rischia di finire sulla gareggiata stradale in un tratto di via Santo Nofrio strada di collegamento intercomunale tra Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi e Valverde Quest'ultima amministrazione ha la competenza territoriale di rimuovere il pericolo Il palo in vetro resina alto una decina di metri ha ceduto alla base ed è sorretto da due cavi di acciaio scilla pericolosamente potrebbe finire sul salciato da un momento all'altro i residenti ma anche gli automobilisti in transito da giorni segnalano il pericolo fino a questo momento una voce inascoltata speriamo che si provveda al più pesto per evitare conseguenze adesso andiamo a Giarre dove la nuova ditta che ha in appalto la polizia del territorio ha provveduto a spazzare quanti rifiuti erano in centrale Villa Margherita con soddisfazione naturalmente soprattutto per cittadini e residenti sentiamo Nicodemo C'è un detto siciliano che così recita scupa nova, scruscio fa ma noi siamo certi che la Dasti la ditta che da ieri ha cominciato ad operare a Giarre nel campo della raccolta dei rifiuti continuerà ad essere operativa e vigile per ridare alla città quel decoro urbano che le manca da tanto tempo già quest'oggi e questo è un dato benaugurante una squadra di operatori è intervenuta a pulire un luogo simbolo della città la Villa Margherita che nel passato non ha brillato troppo per le condizioni generali siamo altresì certi che la scelta di intervenire proprio nella villetta sia anche un messaggio lanciato ai cittadini la cui collaborazione è necessaria per la ottimale funzionalità del servizio convincendoci che ad un intelligente deposito dei rifiuti corrisponderà nel tempo anche a una diminuzione delle tasse la Sicilia in generale e Giarre in particolare hanno perso molti treni nel settore della raccolta differenziata ma il tempo può essere recuperato anche perché nelle graduatorie della funzionalità dei servizi che periodicamente vengono stilate vorremmo essere tra i primi a cominciare dall'alto e non a cominciare dal basso e parliamo adesso dei saldi correrà aspettare almeno la prima settimana per fare un bilancio sui saldi invernali 2017 iniziati quest'anno di lunedì la sensazione però è positiva e la ConfCommercio stima in un piccolo passo avanti in linea con l'andamento natalizio è stato un avvio con vendite di qualità recita una nota della stessa ConfCommercio l'avvio è stato incoraggiante sia per i giorni festivi che anche per quanto riguarda il meteo che è stato propizio è iniziato al meglio il settore della moda uomo ma anche quello della donna è in progressivo miglioramento per quanto riguarda i commercianti quest'anno i saldi rappresenteranno il 37% delle vendite complessive invernali una percentuale indicativa anche del fatto che gli acquirenti troveranno nei negozi un vasto assortimento di tagli e fantasie dell'ultima collezione e non i resti del magazzino andiamo ancora a Catania torniamo sulla vicenda del palazzo sventrato da una esplosione vediamo le ultime è il giorno dopo quello dello scoramento e di disagi dopo aver gridato al miracolo della vita per la mancata tragedia ma in parte è lo stesso una tragedia in via Cosentino Sava a Catania per le 12 famiglie del palazzo interessato dall'esplosione forse per una fuga di gas al secondo piano palazzo che adesso viene sgomberato stanno lasciando le loro case appena consegnate alcuni sarebbero venuti a viverci a breve altri si erano trasferiti da qualche settimana adesso si va tutti dai parenti o chissà dove in attesa che vengano svolti gli accertamenti sull'intero stabile e c'è chi deve anche pensare a guarire oltre a superare lo shock come sta a sua moglie? ma mia moglie è in ospedale non sta benissimo però cerchiamo di passare questo brutto momento voi abitate avete l'appartamento proprio accanto dove è accaduta l'esplosione? proprio accanto da sola in casa? da sola e la posso ritenere miracolata e poi c'è la giovane impiegata delle poste che una casa non ce l'ha più mentre non sono ancora chiare le cause della deflagrazione che ha sventrato il palazzo di Treppiani sta ospitando queste persone c'è la mamma lei sta aiutando a trasferirsi solo questo rimangono questi disagi adesso esatto e dispiacere avevo tutto e non c'è niente e adesso andiamo a Calatabbiano ieri una bella serata in spirito natalizio con un concerto d'autore sentiamo Nicodè tante le manifestazioni e le attività organizzate dalla amministrazione comunale di Calatabbiano in queste festività natalizie e tra queste quella tenutasi ieri sera nel teatro comunale che ha visto l'esibizione della cantante catenese Rita Botto la Botto è una artista a tutto tondo il cui repertorio affonda le radici nella storia nel cuore della Sicilia e il cui operato è teso a riportare in auge brani del passato che sono la storia stessa della nostra terra in questo è valido aiuto il vissuto di Rosa Balistreri personaggio di forte personalità che assieme a Ignazio Buttitta ha avuto il merito di recuperare testi caduti nel dimenticatoio e di tracciare anche la strada per chi volesse continuare su questa zona è una strada tracciata con segni molto forti e la Botto oggi può essere considerata a sua volta come rappresentante dell'animo e della poetica siciliana sicuramente questo diciamo che un fatto singolare ma che acclara quello che di fatto diciamo una chiusura col Botto con Rita Botto che è stata fortemente voluta che è la seconda volta che viene a Cala Tabbiana devo dire che l'ha sempre registrato per la sua professionalità per la sua bravura sembra diciamo un grande riscontro da parte della cittadinanza del pubblico ma anche di gente del periodo estivo che veniva da fuori quindi non c'era modo migliore per avviare questo 2017 nel modo con l'auspicio più bello di potersi godere un anno in tutta serenità in tutta felicità e anche con un pizzico di fortuna magari per persone che non hanno lavoro o che vivono qualsiasi tipo di disagio dal disagio diciamo di un lavoro che non c'è al disagio della malattia comunque qualsiasi disagio quindi questo è anche un modo per veicolare un mio auguro a tutta la cittadinanza bene non ci sono ulteriori aggiornamenti si chiude qui questo appuntamento con l'informazione che potrete seguire tra poco sul sito re tv o sulla nostra pagina facebook vi lascio come di consueto con le previsioni meteo è tutto grazie per averci seguito arrivederci il meteo è offerto da il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato centro analisi SAEM via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale per info 095 60 48 83 quella di domani sarà una giornata all'insegna del cielo coperto con possibili schiarite su tutta la Sicilia nel Palermitano e nel Trapanese precipitazioni i mari sono calmi il Tirreno e lo Ionio mosso e il Mediterraneo temperatura nel Catanese 7 la minima 15 la massima il meteo è offerto da il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato centro analisi di SAEM via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale per info 095 60 48 83 di San Giuliano 21